Questo video è realizzato grazie al programma EA Creator Network. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video dedicato a The Sims 4 Vita Nel Ranch. Con questa visione celestiale, oserei dire, siamo qui riuniti per l'ultimo video di questa playlist nella quale vi ho fatto appunto vedere un pochettino le cose più simpatiche, particolari e che potrebbero aiutarvi nella scelta dell'acquisto o meno di questa nuova espansione. Spoiler, ve l'ho già fatto diverse volte, sì secondo me assolutamente vale la pena acquistarla ma ovviamente fatemi sapere la vostra opinione, lasciatemela nello spazio apposito dedicato ai commenti e vi ricordo che se ancora non mi conoscete nell'info box trovate tutti i miei riferimenti per seguirmi su i vari social, Instagram, Facebook, la piattaforma Viola eccetera. Ma che sta facendo? Sta annusando sua sorella, oh mio Dio! Comunque ragazzi io sono veramente fuori di me per quanto riguarda le caprette e le pecorelle nella playlist dedicata trovate comunque tutti i video precedenti che non ho numerato per scelta perché l'obiettivo era appunto quello di farvi vedere alcune cose spot anche se vi consiglio di vederli uno dopo l'altro perché tante cose ve le ho nominate all'inizio della playlist e poi non le ho riprese più quindi appunto vi consiglio di dare un'occhiata complessiva a tutti i video ma ragazzi ho scelto volutamente di terminare questo video con una delle cose secondo me più carine ovvero la procreazione tra cavalli e quindi la nascita dei puledrini quindi ragazzi vi faccio vedere subito come si può fare non a caso ho messo ciaccia e leggenda all'interno della stessa famiglia proprio perché avendo due animali in casa avete più chance che si accoppino un po' come succede già con i cani gatti se non li avete all'interno della stessa unità familiare è abbastanza complicato spesso non accettano, litigano eccetera eccetera tra l'altro vedo che entrambi i miei cavallini sono felici e quindi molto molto contenta di questo guardate come se la cava vendi alla faccia vabbè già nella festa, la volta scorsa no si finge morta ragazzi anche alla festa si stavano fingendo morte diverse caprette anche se in realtà non possiamo sempre chiederlo infatti dobbiamo sviluppare ulteriormente la relazione con loro sia per chiedere di fingersi morta che ecco qua per strillare potete appunto insegnare a queste caprette e alle pecorelle ma guardate quando si mettono insieme a saltellare non ce la posso fare allora ragazzi basta che andate appunto cliccate sul cavallo e su no scusatemi su amichevole c'è incoraggia a e qui potete vedere come potete suggerire di socializzare con cavalli mini capre, mini pecora o sim ad esempio mini capre e vi esce la lista delle mini capre nell'otto oppure appunto non ce la farò mai incoraggia a socializzare con mini pecora e quindi vi esce la lista delle mini pecore verde rosa io le amo oppure con vabbè con i sim certo ma anche con i cavalli e quindi in questo caso appunto con ciaccia devo dire che è una cosa che i cavalli fanno già autonomamente quindi non ci occuperemo di questo al momento ma andiamo ad incoraggiare ad accoppiarsi allora io attenzione perché vedo un tale un tale kenneth che tra l'altro ha una corona di fiori in testa ma pare essere anche un maschietto ma ragazzi ovviamente io voglio fare un figlio con ciaccia che da che era felice adesso è triste e perché mai cosa ti è successo comunque vediamo come i nostri sim vanno a chiedere al cavallo di accoppiarsi ragazzi vediamo gliel'ha chiesto oh mio dio incoraggia ad accoppiarsi con ciaccia vi prego ragazzi ditemi che ciaccia non sta arrabbiato e quindi che mi rifiuterà vediamo ha detto di sì ragazzi sì certo ora vado oh mio dio peccato che non posso selezionare la telecamera frontale proprio di leggenda che adorerei oh mio dio no vabbè ragazzi ragazzi è uscito il cuoricino questo vorrà dire che amica dei cavalli ok ma questo secondo voi vorrà dire che è incinta oh oh mio dio si leccano vedete come socializzano tantissimo già vicenda Mandy vedo che vuole occuparsi del ranch perché è un po' disperata quindi direi chiedi al cavallo anzi chiama le pecore e le capre per mangiare perché ancora non ve l'ho fatto vedere ovviamente ragazzi adesso dobbiamo aspettare che ci arrivi una notifica rispetto alla gravidanza di leggenda e stanno arrivando caprette e pecorelle la cosa buona è infatti che cade anche il feno a terra questo è il motivo per cui può appunto mangiare una pecorella la netta sensazione che il ranch stia andando a rotoli sì vero però per quanto riguarda ragazzi il resto io direi che aspettiamo la notifica ma ricordiamoci anche che oggi è venerdì quindi ve lo sto assegnando venerdì diciamo alle 18 hanno fatto fichi fichi tra virgolette e vi ricordo che invece non è stato introdotto un nuovo fichi fichi per i sim non c'è una nuova morte e quindi per questo motivo poi alla fine il nettare vi può far tornare in vita ma non vi ammazzerà ragazzi non vi ammazzerà ahimè ed eccoci qua ragazzi la nostra leggenda è incinta in attesa di un puledro è appena uscito il messaggio che ci dice tra l'altro qui hanno cucinato fatto detto e le pecore e le capre ragazzi ve le volevo far vedere perché mi fanno morire vi giuro non ce la posso fare comunque congratulazioni leggenda è in dolce attesa ben presto l'unità familiare sarà animata da nuovi zuccoletti scalpitanti oh mio dio tra l'altro vi devo dire la verità io credo che praticamente lei sia un po' sfatta per questo motivo quindi energia basso allora come avete potuto vedere il messaggio è arrivato di sabato mattina quindi qualche oretta perché venerdì sera e adesso vediamo tra quanto tempo partorirà e soprattutto se modificherà il suo fisico però vedete lei stava perfettamente bene l'unica cosa adesso è molto stanca cucciola fatemi vedere anche se posso selezionare qualcosa abbracciare rincuorare questa è una cosa che non mi ho fatto vedere quando il cavallo sta male arrabbiato eccetera vi escono queste concine nuove qui e secondo me è molto molto carina come cosa vado a chiedere proprio che cosa ha la mia mammina vediamo se mi dice che cosa ha adesso è eccellente l'energia ma l'ho fatta stare bene io chi lo sa andiamo a chiedere no no devi dirmelo che problema ha è in parte avere il destriero povero cavallo Mandy è dispiace da avere il suo amico a quattro zampe cucciola che c'hai non c'è niente di specifico per quanto riguarda la gravidanza preferisce essere imboccata in questi casi un po' di fieno della prateria o una gossusa me la possono essere d'aiuto ma cucciola ma io non avevo capito che era questo allora scusami nutri dalla mano non ho niente nel mio inventario però ce l'ha un rick quindi vado a dare un po' di cose qui un po' di erba della prateria lei vuole essere imboccata io non ce la posso fare nutri dalla mano fieno della prateria soprattutto adesso la nostra mammina dobbiamo trattarla bene perché quell'altro là dietro che balla come se non ci fosse ti piace molla è venuta sta vogliamo che è incinta ragazzi ti voglio bene Mandy ora stai bene cioè Mandy leggenda molto felice che bello piccola evoluzione di pancia della nostra mammina come potete vedere ragazzi la pancia sta crescendo cioè non so se sono io ma secondo me a dismisura oh mio dio piccola nota di servizio ragazzi leggenda sta talmente bene che ha prodotto dell'etame di qualità straordinaria sono sconvolta da tutto ciò vi devo dire la verità non riesco a capire se sia perché è incinta o perché è felicissima o perché vale 20.000 simoleon tra l'altro anche lui adesso dovrebbe valere così tanto il problema adesso sono le caprette sta partorendo oddio ragazzi aiuto aggiornamento notturno sabato ore 23 mi sembra proprio che la piccola leggenda piccola non più tanto d'intorno istanti è materialista leggenda praticamente ragazzi ha una pancia che tra poco arriva a terra allora ragazzi attenzione perché appena è iniziato il travaglio nessuno mi dice niente qui se non ah no un ricco addirittura simo protetto nei paraggi stiamo scherzando un simo adorato ed è protettivo e siamo siamo noi siamo Mandy oddio ci amiamo forse comunque ragazzi attenzione perché è partito il travaglio e ci dice leggenda non sta più nella pelle vuole vedere il suo puledro ma andiamo subito da lei la quale tra l'altro era anche già triste prima perché voleva un'altra volta mangiare dalla mano ma scusatemi ma io non sapevo che c'erano le come si dice oddio le stravaganze anche nei cavalli comunque questo è il momento importantissimo per lei e spero sinceramente che sappia che cosa sta facendo perché io non lo so ragazzi cioè devo andare in qualche modo a rassicurare il cavallo in travaglio si si oddio che cosa possiamo chiedere più niente sta partorendo da sola devi andare tu Mendy devi andare tu vediamo se adesso quindi esce qualche cosa rispetto oh mio dio sta in bizzarrita proprio Mendy ti muovi che questa partorisce e dai oddio leggenda siamo qui ha fatto anche la cacca vabbè è normale ragazzi amore stai tranquilla eh dove sei dove sei dove vai oddio ragazzi un buff anche per noi un sim felice perché non mi esce qui ah ok sussurratrice di cavalli per aver rassicurato un cavallo in travaglio Mendy si sente estremamente speciale per aver aiutato piango per aver aiutato il cavallo a sentirsi a proprio agio no ragazzi adoro ma guardate il puledrino lì dentro vediamo dove sta andando lei adesso vabbè a mangiare tra l'altro non so se avete notato ma nonostante siano passati giorni e giorni non è uscita l'erba nella prateria cioè della prateria in casa mia e vediamo che possiamo fare più che problema c'è non credo che ne abbia ah è soltanto a disagio ragazzi ok quindi questo potrebbe significare che mi dà una risposta coerente col travaglio che c'hai cucciola al momento in travaglio la sensazione di disagio passerà non appena avrà dato alla luce il suo puledro e quando lo dai alla luce allora alle 4 entrate in travaglio 4 e qualcosina no oddio mini capra chiazzata sta pensando ad andarse tutti stanno pensando ad andarse giustamente assumi un bracciante del ranch scusatemi ma io l'assunto il bracciante però le mini capre stanno per morire prima che il bracciante inizi a lavorare perché lui arriva alle 7 tipo mi sa vedete queste sono le notifiche di ogni capra che se ne sta andando sta pensando di andarsene ok erba della prateria è qui c'è l'erba per mangiare ragazzi e dai però pure voi quanto tempo ci metti cucciola chiacchiera sveglia leggenda sta dormendo leggenda ti devi svegliare devi partorire capito vediamo quanto ci mette 7 ore ah no 7 ore eccolo eccolo oh mio dio ragazzi aiuto vediamo le pecorelle anche sono venute qua vicino forse lo sanno forse lo sanno e ora dai dai uuuuh oddio ragazzi ma allora è maschio denali zag muffin most wanted amico ragazzi muffin comunque mi piace ciao ciao allora leggenda ciao ciao e muffin ci sta ragazzi muffin oh mio dio tratto ereditario curioso oh mio dio oh mio dio è appena nato no ciao è uguale a lei ma con la crinetta del papà scusa caccia è nato tuo figlio oddio ragazzi potrei impazzire fatemi leggere aiuto e il puledrino cosa possiamo fare con lui adesso andiamo a vedere subito tratto ereditario congratulazioni per la nascita del tuo nuovo puledro muffin acquisito l'esclusivo tratto ereditario curioso ragazzi allora andiamo a vedere cosa possiamo dire allora come va innanzitutto sappiate che loro poi sono un po' goffi eccetera un po' strani e io li adoro per questo fatti raccontare i petticoletti della stalla vabbè lo possiamo chiedere a tutti ma cura dei cavalli anche in questo caso possiamo fare le altre cose ma anche insegnare a mangiare il pieno oh mio dio Mandy però dai muoviti ma a fine felice che tutti i suoi bisogni siano soddisfatti grazie ragazzi non ci credo ha anche lui il tatuaggio vedi mangia qui oh cucciolo e poi attenzione perché volevo chiedere cioè fargli anche bere il lattuccio del beberon acquisita l'abilità di temperamento no non ne vuole più non lo sa fare che c'è ragazzi vi rendete conto dietro c'è il macello di capre e pecore tutte sporche però che me ne frega a me no vabbè ragazzi sto adorando cioè culla in che senso no ragazzi non ci sto credendo comunque che ha il tatuaggio sul tocca con delicatezza ha i tatuaggi sulle guance come la mamma che sono delle voglie e anche sul popò praticamente avete visto che ha allora vediamo un attimino aspettate perché qui possiamo anche dire cura dei cavalli no scusatemi azioni dove cavolo è amichevole incoraggia suggerisci di socializzare con cavalli e quindi vai a socializzare con il piccolo Muffin e dai no vabbè ragazzi non ce la posso fare vi giuro lo sta dicendo io lo sta dicendo socializzare con tuo figlio dai Muffin papaccia vi voglio tanto 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 bene e le cose che si possono fare con loro ragazzi sono sostanzialmente le stesse vedo che però scusatemi lui vale mille simole questa cosa mi rende indecente nel senso mi dà molto fastidio ragazzi perché lui è nato da genitori che hanno un sacco di valore quindi non riesco a capire per quale motivo se i miei genitori valevano 20.000 simole io in quanto puledro valgo solo mille però ragazzi la cosa stupenda è che oltre ai tre tratti base si aggiunge curioso e mi sa che nessuno dei genitori aveva questo tratto sapete comunque curioso sono per natura più curiosa e si divertono ad esaminare gli oggetti e a servirsi degli ostacoli sei troppo carino e si possono fare poi per il resto le altre cose che si possono fare anche con gli altri e chiamiamo il cavallo per bere ragazzi ci dobbiamo prendere cura di lui questa è la cosa che volevo farvi vedere ragazzi sostanzialmente importante una cosa ragazzi l'aggiornamento rispetto a quello che avevamo visto di profilo dei cavalli è che ovviamente nei premi si vanno ad aggiungere tutte le varie cose che abbiamo guadagnato lui aveva a livello intermedio primo posto mi sa che in questo caso ci sono i premi più alti rispetto alla gara che avete fatto quindi in questo caso end runs primo posto e stessa cosa anche per vedete come è ritornata in forma lei per lei gara dei barili primo posto vedete non escono anche i secondo posto eccetera eccetera quindi questo è e l'è tornata in formissima ti voglio bene leggenda voglio bene tutti voi e niente ragazzi io direi di concludere qui questa mini serie spero che vi sia piaciuta e spero che anche secondo voi si sia conclusa in bellezza con questo frutto dell'amore dei nostri cucciolini dei nostri ah sta facendo la pipì dei nostri cavallini l'unica perché si vingono morti l'unica cosa ovviamente è che ci dobbiamo ricordare che anche i poliedri crescono quindi a breve crescerà e loro diventeranno anziani e quindi poi moriranno ma già nel debug vi avevo fatto vedere le lapidi l'urna eccetera eccetera quindi Laurel vabbè che mi scrive cose e quindi niente ragazzi io spero di ricevere i vostri like i vostri commentini qui sotto ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per ricevere le notifiche anche di altri video che arriveranno perché vi anticipo che sebbene abbiamo finito un excursus delle cose principali che vi volevo mostrare dell'espansione tante tantissime cose non ve le ho fatte vedere e lo faremo sicuramente nelle mie serie e in altri video quindi vi aspetto prossimamente sempre su questi scherbi da Mandy Ulrich Ciaccia Leggenda e adesso anche il piccolo Muffin che è molto felice è tutto vedete che lui oddio sta imparando deve imparare a mangiare l'erba della prateria vedete che sta un po' agitato attenzione si è spaventato probabilmente per l'erba della prateria a questo punto ragazzi la parola di oggi se siete arrivati fino a questo punto del video è ovviamente Muffin il nome del nostro prediletto e quindi sì magari scopriremo anche nelle prossime puntate come i puledri imparano a non avere paura dell'erba della prateria ci vediamo prestissimo un bacio a tutti e ciao ciao